Scenario suggestivo, ospiti d'eccezione, buon cibo e location mozzafiato, componenti di rilievo che ruotano attorno alla protagonista assoluta dell'evento, l'arte contemporanea. Si potrebbe riassumere così l'evento di Red Italia Art tenutosi domenica 30 settembre al castello Rechi di Salerno e inaugurato al taglio del nastro da Maria Grazia Cucinotta. Puntiamo sulla valorizzazione del turismo culturale e artistico della campagna, ha affermato il critico d'arte Marco Giordano. Abbiamo incontrato tante difficoltà lungo il cammino, ma la voglia di cambiare le cose, di far rifiorire il territorio promuovendo i suoi talenti in giro per il mondo è tanta e non ci fermeremo. Stiamo progettando una nuova esposizione a New York. A sorpresa la Cucinotta ha ricevuto in dono un quadro a lei dedicato e realizzato per l'occasione da Domenico Villano. Dopo il successo della mostra a Salerno, la Red Italia Art continuerà a mettere in mostra le doti artistiche dei talenti italiani provenienti da Lombardia, Campania, Lazio e Puglia, che a breve potranno esporre le proprie opere presso una suggestiva location a New York.